Ok raga, eccoci qui, che fate? Benvenuti a tutti della mia casa di Motta San Giovanni, proveniente del Reggio Calabria. La via non la dico, seguitemi tutti e quando vedete i video e poi mettete mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, bello a tutti i ragazzi e poi quando si caricano i video su Youtube del vostro cellulare potete attivare la sveglia e quando si carica voi lo guardate e dopo mi scrivete in privato che pensate. E beh, dopo faccio le chiamate con voi in privato così le porto su Youtube come le portavo sempre. E sono qua, del vostro Enrico Pasquale Pratico a tutti e l'accedo su Rao. Io ho 28 anni, lo dico alle persone nuove e a quelle che lo sanno, non passo il tempo, sono uno Youtuber, faccio video su Youtube dell'anno vecchio, dell'anno scorso, di 2014, famoso video che conoscete voi, intervista o 2015 con quella persona, dopo a Natale con quell'altra persona o 2018 e sapete tutto. Vabbè, sono passati anni e ora siamo in 2021, so parlare perché un poco mi scappa le parole, spaglio un po', me ne frego, io continuo a parlare come voglio. Io sono italiano, calabrese, dialetto, le persone non vogliono sentire quello che dico e possono andare in quell'altro canale. Io sono grande e ragiono meglio di loro e sono il numero uno e sono contento, voglio ridere io. E un sorriso si deve fare, si deve ridere, non è che, vabbè, lo sapete, vabbè, basta, dai, è meglio. Metto pausa. Oh, raga, non volete le stesse video che guardo qua? Vabbè, sono qua, vediamo i messaggi. Prima leggo tutti, vediamo che dicono, no, qua no, sto leggendo i messaggi che ora leggo anche qua. Aspetta, esco, mi mantiene un gruppo strano, aspetta, lo abbandono. Lui mi scrive, ciao Enrico, ci serverebbe un favore, ci chiederemo se potessi fare un video di auguri per un nostro amico di nome, Samuele, che tra un mese compie 18 anni. Ok, Manuele, te lo mando in privato. Questo me l'hai mandato oggi, 9.03. Alle 9.03 hai mandato il messaggio. Ora l'ho visto io, scusami, e tutte quelle persone che mandate il messaggio in privato, rispondo a tutti, siete troppi, facci il vocalo, i video saluti, piano piano saluto a tutti, tutto il mondo. Perché non rispondo, perché siete troppi? E ancora devo fare a barba, lo sapete che sono impegnato, lavoro, sono qua a fare i video con voi, registro, porto le dirette, ora vedo, oggi la volevo fare, vabbè, ora è tante, vediamo, o la faccio stasera o domani, o tutti i giorni, vabbè. Aspettate un minuto, metto pause, non voglio che, dopo, non è in pausa, e cammina solo, io vado in giro a fare le foto, eccetera, eccetera. Dopo vedete i video che si vede senza che non ci sono io qua. Devo stare qua fermo, così registro meglio io con la mia faccia. Volete vedere a me, no? Che vedete vuoto, senza che non c'è nessuno. Si vede solo il letto con i cosi, vabbè. Mi dissocio, scusatemi, perdonatemi, arrivo. Sentite, questa ragazza mi vuole bene, è la mia gioia. Come lei, come tutti voi, tutto il mondo. Sentite? Ho visto che hai anche la cyclette, che fai palestra, bravo, devi fare un bel video dove pedali, dove fai vedere che pedali, fai ginnastica, perché sei molto figo. Grazie. Non dico il nome, così non sanno le persone quelle che non capiscono. Lo dico solo alle persone giuste. Ah, mi speri di saluto. Paolo, Silvia, Lori, dopo Claudia, Gloria e Silvia, Mari e Genevr, con l'altra roba con la J, e Luce del Norte, Al con la X. È assunta. Tanti baci, e anche a voi do i baci. Io vi voglio bene, non è che sono una brutta persona, che io dico giuste cose. Loro sono quella maniera che ho detto io ora, questa frase. No, io. Guardate solo a me, che io porto un nuovo video, ho fatto tante foto con le persone, in giro l'anno vecchio, l'anno scorso, quest'anno, quando eramo a Lazzarro, a Mare, a Uconad, a Reggio Calabria, a Melo e Porto Salvo, a San Basilio, a Leandro. Ho fatto tante foto, video saluti, foto, firma, ho fatto tutte cose, quelle che vogliono venire, quando finisce questo bordello del coronavirus, venite a trovarmi e facciamo queste tre cose, le foto, la firma e un video saluto, e così tenete il ricordo, voi tenete in ricordo queste tre cose, mi dissoggio, dai, arrivo. Giustano occhiali, ho detto tutto, sì, ancora devo fare altre cose, che dopo devo fare una sorpresa alle persone, che devono portare il video, quello là che volevo portare oggi, e mi sperdia quello della bicicletta da Gennast, vabbè, dai, andiamo qua, noi in giro, che tanto l'ho fatto in cucina, ora lo faccio solo qua, questo qua non mi muovo, lo lascio così, telefono con i baciorni dei selfie, vicino sopra un mobile, così registro solo il corpo a metà, e così è buono, dopo lo prendo e cammino qua da mia stanza e finisco, dai, vi dico la buonanotte ora, così dopo continuo e dopo lo chiudo, buonanotte a domani, e sogni d'ora a tutti, e fate i bravi, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, attraverte la campanella, bello a tutti i ragazzi, seguitemi tutti su YouTube, e tutti gli app, e beh, quando vedete, dai, cercatemi la fidanzata, o me la cerco io, come volete, dai, che io voglio una fidanzata giusta, che mi ama, e la tratto bene, la fidanzata, che io ho 28 anni, e voglio l'età forse la stessa, o in meno, in più, non fa niente, vabbè, dai, ok, leggiamo i commenti, quello che pensano le persone, e quello che dicono, un'altra parte, ma mio padre, che sa a memoria, tutto il video, di Enrico Pasquale praticò, lo amo sempre di più, ok, Miracolo, sto solo cercando una chiacca, con qualcuno dei ragazzi, non pensare male, ci voleva, voglio anch'io, Enrico Pasquale praticò, il numero uno, va bene, continua, quanta, sì, perché siamo delle ragazze magre, bellissime sex, e sono un ragazzo carino, bionde, con i capelli neri, ok, sono qua, sto leggendo, il concorrente, che dice, mi piace, zappare, e subito, zapparmi, ok, la collana, no, quella non la leggo, no, va bene, sto morendo, sta morendo, che sta arredendo, mi piace il mio video, quello vecchio, 2014, avete visto anche quello, del 2015, dopo quell'altro, 2018, quelle che sono venute, quelle due, beh, vediamo qua, che dicono, arrivato, lui, lo aspettavamo, da un bel po', vi presento, vi presento, Enrico, non da solo, ma, ok, ho capito, parlano da me, grazie, a tutti quelli, che condividono, i miei video, e, parlano di me, tutto il mondo, pensate sempre, a me, da quello giorno, da ora, o quando sono, fidanzato, quando sono sposato, quando è ora, ancora no, prima mi devo trovare, la fidanzata, e dopo, quando è ora, prima si lavora, e dopo si deve sposare, un bordello, vabbè, andiamo avanti, è meglio, vediamo qua, che dicono, mo, lo contatto, Enrico Pasquale, lo dico, ok, di essere, la donna ideale, di Enrico Pasquale, lo dico, ok, io sono, vabbè, parla, le frasi, quelle che dicevo io, nel vecchio video, vabbè, basta, facciamo altre cose, parliamo, no, che pensate cose strane, mi dissocio io, vabbè, non so che pensano loro, vabbè, vado avanti, è meglio, è meglio, facciamo altri video, il segreto, come fanno quell'altro YouTube, o andiamo su Omicol, devo vedere prima, questi due, voglio fare ancora, voglio vedere, i segreti, su segreto, che scrivono le persone, scrivo anch'io lì, o andiamo su Omicol, a parlare con le persone, maschi, femmine, parlare, che fanno, mi conoscono, facciamo compagnia, che dite voi, raga, ok, ho chiuso la chiamata, lui, su Omicol, vabbè, meglio, lo facciamo la prossima, solo Omicol, non è, che faccio così, i video, beh, basta, e basta, io stasera, raga, ho mangiato, sempre la pastina, volete cambio, dopo, ho mangiato, il panino, con l'ustel, dopo, un cornetto, con la ricotta, e dopo, un bicchiere di Coca-Cola, prima la pastina, dopo, un panino, pomodoro, e un sassizzo, dopo, un panino, a parte, con il sassizzo, entra, dopo, un cornetto, con la ricotta, e dopo, un bicchiere di Coca-Cola, non è, che sono cose, che fanno schifo, a me mi piacciono così, a voi mi piacciono in un'altra maniera, giusto raga, non è che, spaglio e dico, stronzate, cose, vabbè, basta, queste pensano che, dico, cose, vabbè, metto pausa, ora lo chiudo, dai, ok, saluto, tutti, state bene, raga, io sono qua, ho messo questa maglia, e i pantaloni, jeans, quelli che, quelli a moda, quelli bucati, beh, oggi ho fatto la palestra, ho fatto anche la doccia, pomeriggio, ho fatto Marenda, tutti i giorni, a pranzo si mangia, a cena si mangia, e pomeriggio si fa Marenda, giusto è la frase, non è che ho spagliato, ditemi voi in privato, e ho spagliato, la dico così, che italiani sono le mie parole, della mia bocca, non è che escono, vabbè, ora lo chiudo, ci vediamo alla prossima, e, boh, vabbè, Gesù, Madonnina, aiutami a me, aiuta a Paolo, e a tutte le persone, facciamo una bella preghiera, tutta la sera, quando andiamo a letto, preghiamo a Madonnina, a Gesù, io, a Gesù, la Madonnina, io le amo, prego sempre, non è che, voi, non preghiate, pregate, raga, che state bene, tranquilli, fate un sorriso, ci sono io per voi, ok raga, ci vediamo alla prossima, ciao belli, e vado a fare le foto, ciao belli, ciao raga, ciao ciao, alla prossima,